Stanco? Nessuno pilota sta sempre applicando il tuo pilota Chi? Se nessuno è un pilota Ah, vedete se non provocare il tuo casa? Ah, certo Eh no, credo ci hai abituato lo dico Luna Luna, tu in teoria dovresti dire no La placata Tanto non ci arriva Ah No, da così lontano Non abbiamo bisogno che c'anzi Eh Eh Fai il secondo numero No No Non ci può arrivare No